Domenica 19 giugno a partire dalle 9 e mezza circa, appunto il Subuteo Club Map di Colombarone sarà ospite della ditta Mastro De Paia, nota ditta produttrice di pipe in tutto il mondo. Saremo ospiti per organizzare un torneo nazionale di Subuteo. Il Subuteo è un po' un gioco che oggi potremmo definire vintage, ma diciamo che raccoglie appassionati, curiosi, giocatori un po' qui da tutta Italia. C'è stato un ritorno di fiamma circa una quindicina d'anni fa e noi del Subuteo Club ci siamo ritrovati e ci ritroviamo settimanalmente attorno a un panno verde per trascorrere un po' di tempo insieme in allegria e serenità. Noi abbiamo avuto adesioni dalla Puglia, da Lecce fino ad arrivare alla Romagna, Modena, Parma, Viterbo, quindi tocchiamo un po' tante regioni e tanti amanti di questo gioco che si faranno tanti chilometri, chi in macchina, chi in treno, per venire a Pesaro. I membri del Subuteo Club Colombarone è una combriccola di amici che, così, con la scusa dello stare insieme e di divertirsi, grazie a Gabriele che avete conosciuto prima, ha fondato un club, un vero e proprio club riconosciuto a livello nazionale, dove aderiscono e giocano persone eterogenee nel senso dell'età. È un club relativamente giovane perché è stato fondato cinque anni fa e ha visto riconosciuto l'affiliazione al circuito nazionale recentemente, un mesetto fa. Ricordiamo che per domenica l'appuntamento è in ditta Mastro de Paia, via Fossombrone Pesaro. L'evento è aperto a tutti, quindi ovviamente a chi ha aderito al torneo, ma è aperto ai curiosi, agli amanti, agli appassionati, a chi sa di avere un tavolo da subuti, un panno con delle squadre, semmai in manzarda e vuole togliergli un po' di polvere, ai bambini. Noi all'interno del club abbiamo dei ragazzi che giocano. E questa è una cosa bellissima, anzi il Subuteo Club di Colombarone annualmente svolge attività all'interno delle scuole, appunto con un progetto collegato all'arte della miniatura. Quindi si fanno dipingere gli omini del subuteo e quindi si fa l'arte della miniatura e la si collega al gioco del subuteo. Quindi